Il sindaco Maurizio De Luca stamattina in Consiglio Comunale ha attribuito le deleghe a ciascuno dei suoi assessori. Ha tenuto per sé turismo, cultura, arte, spettacolo, contenitori culturali, bilancio, patrimonio personale, sport, tributi e polizia municipale. Maria Grazia Motisi, randaggismo, servizi ambientali, rapporti Ato e servizi rete. Antonio Polizzi, sanità, servizi sociali, pari opportunità, agricoltura e sviluppo rurale. Patrizio Lodato, urbanistica, lavori pubblici, verde e servizi cimiteriali. Angelo Alanda, attività produttive, programmazione, fondi comunitari nazionali e regionali. Bernardo Rizzo, pubblica istruzione, politiche giovanili, manutenzione, edifici scolastici e generali e protezione civile. Assessore Rizzo, oggi sono state ufficializzate le deleghe. Allora, ricordiamo le sue, una delle deleghe è la pubblica istruzione. E allora, per quanto riguarda le mie deleghe, è una sfida, come per tutte le deleghe che sono state date, perché noi sappiamo che ci sono delle difficoltà in qualsiasi settore, ma li dobbiamo accettare con entusiasmo. Io li accetto con entusiasmo. Scusi, la delega più conforme è la pubblica istruzione? La pubblica istruzione, sì, infatti io l'accetto con entusiasmo, la pubblica istruzione, perché è un settore che io vivo da insegnante, quindi sono felice di accettare questa delega e spero subito di iniziare a lavorare con tutti i dirigenti scolastici e vedere un pochettino quali sono le problematiche più urgenti e cercare di dare il contributo da parte dell'amministrazione. Altre deleghe? Penso la protezione civile, credo di aver capito. Sì, sì, protezione civile, manutenzione e politica giovanile. Vedremo un pochettino di analizzare e fare un punto di partenza. Vediamo cosa c'è in atto, ciò che c'è di positivo e continuare a costruire su tutto quello che c'è di positivo. Quello che non c'è ce lo dobbiamo costruire. Lei non è mai stato nelle istituzioni, questo la preoccupa oppure le dà uno stimolo in più? La cosa la possiamo guardare da due punti di vista. È chiaro che quando si affronta una nuova avventura qualche preoccupazione c'è sempre, è inutile dire però nello stesso tempo c'è quell'entusiasmo, quella voglia di affrontare una nuova esperienza ma una nuova esperienza a servizio sempre dei cittadini, io l'ho sempre ripetuta questa cosa noi della squadra assessoriale dobbiamo avere questo spirito che è quello di andare a metterci in gioco per i cittadini. Quando uno parte da questi principi io penso che già sia un bel punto di partenza e aiuta a dare entusiasmo. Assessore Lodato, oggi sono state ufficializzate le deleghe certo quello più conforme a lei tenuto conto che è un architetto è la delega all'urbanistica e ai lavori pubblici. D'altronde ho anche un'esperienza maturata con queste delega dal Comune di Palermo e dalla provincia di Palermo infatti ho chiesto al sindaco e ho avuto anche l'appoggio di tutti i partiti che fanno parte della coalizione che queste delega venissero a me affidate per la professionalità che mi viene riconosciuta e l'esperienza che ho messo a servizio del mio paese perché ricordo a tutti che i miei genitori, il mio padre è di Partinico. Quindi da Palermo si sposta a Partinico per contribuire alla gestione amministrativa di questo paese? Sì, più che contribuire voglio essere protagonista perché se sono protagonista io è protagonista del paese perché d'altronde bisogna dare una svolta, lo sappiamo tutti, ce lo siamo detti tutti in campagna elettorale abbiamo la necessità di, ovviamente il Comune di Partinico non ha un euro per poter spendere lavori pubblici sembrerebbe una delega vuota, in realtà uno deve essere bravo e qui c'è la mia esperienza a poter attingere a quei fondi europei, a quei fondi comunitari, i PON e tutto ciò che possa essere fruibile per poter portare economia in questo paese e soprattutto ridare una svolta urbanisticamente a questa città e cominciamo a chiamarla città. Lei si occuperà anche di cimitero, quindi il culto dei morti sarà all'attenzione sua? Sì, questa l'ho chiesta con forza perché io ogni domenica vado a trovare i miei genitori al cimitero e il cimitero è in uno stato di abbandono e siccome io voglio che chi vive a casa propria vive in maniera decorosa e i morti quando sono in quella casa, in cui tutti andremo, deve essere decorosamente urbana e quindi il mio primo obiettivo è dare una immediatezza, una risoluzione anche con una mia idea che è ciò che, considerato che il Comune ha sempre quelle difficoltà economiche, vedere di realizzare con un project financing la ristrutturazione, gestione e manutenzione del Comune di Partinico, un intervento dei privati. Noi vogliamo sapere qual è questa idea nel concreto. È questa, è fare un bando per un project financing, perché come è stato fatto in città grandi, il Comune di Castellammare, Caltanissetta, ma anche in Italia, la gestione, perché il cimitero al di là del decoro, delle sepolture, il forno del programmatoio, c'è tutta una serie di interventi, l'ampliamento e può essere non più gestito dal Comune, ma vigilante il Comune deve essere e ci vuole l'intervento dei privati, con un bando per il project financing. Già ci sono diverse imprese, anche non siciliane, che hanno interessi sulla città di Partinico e per interessi si intende come tutte le cose private, bisogna guadagnare. L'importante è che non è un aggravio di costo né per il Comune di Partinico né per i cittadini partinicesi. Adesso lei si sente un partinicesi a tutti gli effetti, farà la spola da Palermo a Partinico? Sì, la spola perché abito a Palermo, a Partinico ho diversi interessi lavorativamente parlando, ma è una cosa che ho voluto personalmente occuparmi della città che ho visto in Italia dei miei genitori. Sono sempre rimasto legato a questa città e cercherò di dare il massimo contributo politico, soprattutto anche per il partito che io rappresento, che ricordo agli ascoltatori, che siamo al governo della regione, siamo con tre assessori, non ricordavo la galla di Polito, ma soprattutto il sindaco e l'espressione dei partiti del governo del centro del centro del centro del centro. Al di là delle beghe che ci possono essere locali, la città di Partinico ha come interlocutore diretto la regione siciliana, il governo della regione siciliana, e quello è quello importante. Al di là anche delle critiche che è stato detto che tutto è stato scelto a Palermo, anche in sede di consesso comunale. E ma dovete prenderlo come un fatto positivo, perché essere considerati a Palermo così importanti da averci riuniti, dalle massime cariche, perché dal Presidente della regione i veri deputati si sono occupati di Partinico, significa dare la giusta importanza a Partinico e nel momento in cui hanno preso questa responsabilità di contribuire alla decisione delle cariche degli assessori, hanno assunto quella responsabilità che li porta ad essere fattivi e contributivi la città di Partinico. Dopo due assessori uomini, ascoltiamo una voce femminile all'assessore Landa. Oggi sono state ufficializzate le deleghe, come pensa di porterli avanti? Intanto con grande impegno e responsabilità, questo è quello per cui sono stata chiamata a questo incarico e sicuramente mi spenderò fino all'ultima forza che posso avere in corpo, quindi per la mia città, per la mia gente, per chi mi ha dato fiducia, per la mia coalizione, per il gruppo che rappresento. e sarà portata avanti con determinazione, come dicevo, proprio perché io amo Partinico e voglio vederla rinascere da tutto ciò che in questi anni è stata causa di mortificazioni e purtroppo degrado assoluto. Due deleghe che secondo me hanno una connessione, la delega alle comunità europee, quindi significa ai fondi europei, è una delega per le attività produttive. Come conciliare le cose e come poter attingere i fondi europei per dare un rilancio anche economico e soprattutto economico a questa città? Allora, intanto cominceremo dall'inizio, perché bisogna capire, questa è la mia prima volta, queste deleghe non le ho mai avute, però col mio lavoro ho già avuto modo di lavorare e avere opportunità di interloquire con persone che lavorano su questo settore. Già nella mia attività, la sede nazionale, che rappresento a livello di sindacato, lavorano con la comunità europea, con i fondi comunitari e quindi sicuramente avrò l'opportunità di spendermi a pieno in questa attività. Per quanto riguarda le attività produttive, certamente coinvolgere tutto ciò che c'è nel territorio, le nostre attività artigianali, commerciali, gli agricoltori, tutto ciò che consiste nel poter dare di nuovo opportunità di lavoro e produttività proprio appunto per il nostro paese. Quindi farò in modo che queste due deleghe si fondano proprio insieme per rinascere, rilanciare questo nostro paese. Lei ha un'esperienza, è stato già assessore in qualche precedente giunta, quindi questo la incoraggia ad andare avanti. Sono stata assessore al comune di Borgetto per pochi mesi, non avevo queste deleghe. Comunque il paragone dei due comuni è molto diverso, ovviamente anche per densità di popolazione, per modo di operosità. Sicuramente avremo una squadra molto più vigile su determinate condizioni, il sindaco sicuramente è una persona capace e determinata e credo che ci darà abbastanza spazio e visibilità per il lavoro che noi potremmo svolgere in questo contesto. Una domanda alla quale tengo, dove colla con l'umiltà? Al primo posto. Sono sempre stata una persona umile, per chi mi conosce lo sa, e al primo posto metto l'umiltà e la persona, e l'essere umano, perché sono le cose fondamentali che devono sopravvivere e vivere insieme in questa comunità, che è quella che è mancata negli ultimi tempi, quello di non dare spazio a un senso civico, di democrazia, di coerenza e di compartecipazione con tutte le forze sane del territorio, che nel bene o nel male ognuno avrebbe potuto dare la sua parte. Assessore Polizzi, sono state ufficializzate le deleghe, io le ricordo, sanità, servizi sociali, pari opportunità, agricoltura e sviluppo rurale. Come intende portarli avanti? Questa è una bella domanda, ma spero che me la rifaccia fra qualche giorno, perché prima bisogna prendere coscienza delle cariche e dell'incarico che ci stanno dando e ci ha dato il sindaco, e poi successivamente le risponderò. Io ce la metterò tutta, cercherò di fare del mio meglio, come ho sempre fatto nel mio lavoro. Ci siamo, questo è il mio impegno che do proprio in maniera concreta alla città come promessa. Quindi spero che poi le promesse si trasformino in lavoro utile per la collettività. Intanto la sanità, cosa è per lei la sanità? La sanità forse è il servizio più importante che ci possa essere. Perché riguarda la salute? Certo, perché riguarda la salute. Quindi, ripeto ancora, io mi muovo in questo momento in un mondo semiconosciuto, per cui è importante che le dica, spero di fare il mio meglio. Sono certo che darò il massimo di me. Questo è quello che oggi le posso dire. La sanità sarà un problema che sarà affrontato in collaborazione e con le dinamiche necessarie, sarà affrontato insieme agli addetti ai lavori. E quindi, perché se non creiamo le sinergie, non si possono affrontare i problemi. Quindi in ogni caso, l'importante è creare le sinergie con gli addetti ai lavori. Ma come donna io posso rivolgerle una domanda. Pari opportunità, che vuol dire? E com'è la sua idea di portare avanti questa delega? Io capisco che lei possa vedere la delega di pari opportunità più a una donna. No, assolutamente no. Io non sono una femminista. E quindi, nemmeno io, per la verità. Secondo me il rispetto è già intinseco nelle persone. Quindi, pari opportunità. Anche questo è un mondo nuovo per me. Perché io mi sono mostro nel mondo bancario fino ad oggi. Per cui, però, insomma, anche lì è qualcosa che vedremo e andrò a vedere in seguito. Noi aspetteremo naturalmente che lei possa concretizzare la sua attività. Ma qual è il messaggio alla città? Ma il messaggio che il sindaco ha, con le dele che date, ci ha già messi al lavoro. Il messaggio è quello. Cioè, tutte le promesse fatte in campagna elettorale bisogneranno essere messe a terra. E quindi, cominciare, con buona lena, a dare risposte alla città. Il messaggio è questo. Daremo le risposte che la città si aspetta, su ogni campo. Certamente non abbiamo, come ha detto il sindaco anche in campagna elettorale, non abbiamo la bacchetta magica. Ma tanta voglia di fare. Quindi di essere presenti e di dare le giuste risposte che la gente si aspetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.